Ciao a tutti, sono Angelo Barile, vi parlo da Torino, sono un artista torinese. Questa qui è la hall del mio studio, il mio studio è leggermente più in là. Io mi sono fatto una domanda tramite un amico, un amico che conosco da anni, e mi sono chiesto, per quanto riguarda l'arte contemporanea o l'arte in generale, c'è bisogno di insegnamento, di azioni fatte con passione, di professionalità. Parlavamo proprio di questo, ad esempio della città di Cagliari, che è l'unica città a non avere, metropolitana ovviamente, una città di un certo rilievo, a non avere un'accademia delle arti, delle belle arti. Mi chiedo come sia possibile. Come sia possibile questo? Perché i giovani, secondo il mio pensiero, e penso anche il vostro, devono essere istruiti. Per cui perché? Perché non c'è? A voi la risposta.